buongiorno cari amiche e cari amici del cappello di irma buongiorno a tutti voi con questo video vorrei informarvi che da oggi se lo desiderate potete tornare a scrivere i vostri commenti sotto direttamente al video intanto ringrazio tutti coloro che questa settimana molto gentilmente ci hanno scritto tantissime mail sul sito www.ilcappellodirma.it dove appunto ci sono pervenuti tantissimi commenti comunque quindi grazie auguro a tutti voi una felice domenica e quindi rimanete col cappello di irma mi raccomando e scrivete 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 ciao